Abbiamo presentato come Movimento 5 Stelle un gruppo di sette emendamenti per tagliare alcune spese superflue che consideriamo insomma inutili in questo periodo di crisi e mettere invece i soldi su cose che riteniamo utili per i cittadini. Nel difficile bilancio del Comune di Venezia esistono secondo i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle alcuni significativi margini di risparmio a partire dagli ultimi quattro stipendi del Direttore Generale del Comune figura alla quale secondo i grillini si potrebbe tranquillamente rinunciare. Noi non vogliamo più la figura del Direttore Generale nel Comune di Venezia quindi questi 80.000 euro li mettiamo a defalcazione del possibile aumento delle soste blu per i parcheggi a Mestre e Marghera. Tra gli emendamenti presentati dai pentastellati è anche la cancellazione dei fondi per le modifiche all'Ovovia sul ponte di Calatrava che preferirebbero veder destinati a interventi diffusi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in centro storico e lo storno di una parte delle spese di gestione del casino. La casa da gioco secondo noi non sta andando male e può benissimo stare in piedi sulle sue gambe senza avere questi 2 milioni e 2 che il Comune deve togliersi dalle sue risorse. Quindi questi 2 milioni e 2 li distribuiamo una metà al fondo integrativo dei dipendenti comunali e un'altra metà per alzare la sticella dell'addizionale IRPEF comunale e quindi aiutare le fasce di popolazioni più deboli a non pagare anche l'addizionale IRPEF di competenza comunale.